Me la fassi? È mia! Chi siete? Vi salva lei! Io sono Nicola, lei è Gaia. James Marsden vorrebbe tornare a interpretare Ciclope nel nuovo X-Men Apocalypse. Ebbene, si pare che l'attore abbia svelato di avere ancora a cuore il personaggio interpretato nei primi tre film dedicati agli X-Men, dicendo che lo emozionava tantissimo vedere i trailer dell'ultimo film della saga. Quando X-Men debuttò nel 2000, i fan non lo apprezzarono moltissimo, però ora che sono passati 14 anni, pare che questa ostilità non ci sia più. Ma staremo a vedere. E voi sareste d'accordo con questo ritorno? Vorreste un altro nome nel cast? Fatemi sapere, io vi aspetto al prossimo video con nuove news. A presto, ciao a tutti.